Il creatore Saracena è un simbolo conosciuto dalla città di Sanremo. Tramite una sinergia con la Sora al Turismo Giuseppe Faraldi abbiamo deciso di potenziare questo tipo di impianto e illuminare con questa illuminazione scenografica che cambia colore. Si può impostare un colore fisso che cambia perché è collegato a un piccolo chip che si può programmare e diciamo che è un intervento in un punto della città che dà anche un riferimento al nostro patrimonio storico. Gli dà quel valore aggiunto, un'attenzione in più, diciamo che noi che siamo residenti, chi c'è nato conosce le zone, conosce questi monumenti, sicuramente dandogli queste colorazioni, dandogli un'attenzione in più può essere anche d'invito per i turisti poterlo andare a vedere.